Oggi video completamente diverso dal solito perché per la prima volta vi porto un prodotto praticamente vi vorrei far conoscere questo disgregante per il vc del vostro camper o credo anche della vostra barca perché ho dei volantini qua che mi fa vedere anche l'illustrazione della barca perciò che mi sembra che tra l'altro siano fatti uguali sia quelli dei camper che quella della barca comunque sia questo qui è un prodotto totalmente naturale si parla mi sembra se non ricordo male di enzimi ok è un disgregante completamente biodegradabile ha una colorazione blu che non macchia l'interno delle vostre cassette vabbè uno dice magari nel serbatoio se uno c'è il nautico conservatorio grande da 40 50 80 litri che sia non ci fa caso ma nelle cassette quando andiamo a sciacquarle se uno guarda e si nota se il colore dentro rimane non lascia niente voi ad esempio io ho una cassetta del vc che color color panna color beige una cassetta di quelle vecchie e non lascia alcuna macchia io vi dico siamo a giugno io e dallo scorso settembre che utilizzo questo prodotto qui assolutamente posso dirvi una cosa pulisce veramente bene rende liquido tutto nel giro di poco tempo tra l'altro ho letto perché mi sono fatto mandare anche una documentazione che ho qui perché ciò mi dimentico qualcosa sul prodotto ho letto vabbè c'era scritto anche sui volantini comunque ho letto che praticamente questo questo prodotto dura sette giorni all'interno del serbatoio perciò mettiamo caso voi magari usate il camper che so il sabato e la domenica poi magari lo tenete fermo tre giorni e poi lo riutilizzate di nuovo cioè l'occorrenza vi dura ancora cioè l'effetto del che voi avete buttato la vostra bustina qua c'ho la confezione di una bustina sola anzi non vi ho fatto vedere la confezione ma credo che la conoscono tutti che è questa qui voi buttate dentro una bustina tra l'altro una bustina di queste vi tiene da 10 fino a 80 litri cioè se voi avete un serbatoio del vostro wc che è da 10 litri o fino a 80 vale sempre utilizzare una di queste poi se per scrupolo magari ne mettete una dopo due giorni ne volete aggiungere un'altra perché magari avete un serbatoio grande che nessun problema potete farlo comunque loro dai dati che mi hanno comunicato praticamente con una bustina andate dai 10 agli 80 litri senza alcun problema e ha un'attività di sette giorni la profumazione è fantastica perché è una profumazione quasi adesso non so diciamo quasi fruttata cioè sembra una gomma da masticare è molto piacevole nulla togliere ad altri prodotti che potrebbero funzionare più o meno bene però sinceramente io cinque anni col camper prima usavo il classico disgregante che utilizzano praticamente tutti il barattolo bianco il tapo azzurro via senza star lì a far nome ma non per cattiveria mi sono sempre trovato bene a livello di pulizia ma a livello di odore cioè si sente proprio quell'odore di chimico che a me non piace specialmente d'estate d'estate quando gli odori sono più forti questo qui sinceramente lo preferisco e devo dire la verità l'ho provato perché sembrava uno di quei prodotti che vanno un po' di moda allora lo vedi in tutti i canali youtube dove ci sono i camperisti ma sinceramente una volta che l'ho provato ho detto cavoli cioè funziona bene profuma è la fine del mondo poi diciamoci la verità adesso magari non lo trovo mi sembra che non si trova nei negozi ma si può acquistare solamente tramite il sito e vi dico una confezione di queste contiene 16 bustine contiene 16 bustine 16 bustine praticamente costa mi sembra 11 euro e 90 se non ricordo male 11 euro e 90 fate diviso 16 se fosse diviso 10 sarebbe 1 euro e 19 a bustina cioè molto credo che si vada intorno agli 80 centesimi a dose per avere il vostro bagno profumato diciamo e pulito ok ci siamo capiti non vi ho detto neanche il nome comunque vabbè siccome io e l'inglese siamo una cosa totalmente differente allora vi dico innanzitutto ve lo scriverò in sovraimpressione ovvero qui sotto da qualche... vabbè lo scrivo il sito è e vt s che è la sigla del del... ecco questo qui che diciamo questo qui è l'adesivo da mettere sul bagno da qualsiasi parte quando ho messo in fronte alla cacca ecco e now with the shit non l'avrò mai detto bene l'ho tradotto basta con questa merda dovrebbe voler dire comunque vista la sobrietà del prodotto veramente io vi dico che solo il motto che c'è sul volantino è le tue stronzate non sono mai state così perfumate ragazzi io mi sono trovato a parlare con non so se l'ideatore del prodotto chi era comunque alla fiera di parma a settembre ho il video della fiera di parma e dove faccio vedere anche questo prodotto nel mio canale trovate il video della fiera di parma e devo dire sono stato un po' a parlare con questo signore non so chi era se non ha detto se non so chi era comunque era lì nello stand e mi ha raccontato un po' di cose persona fantastica persona veramente fantastica e vi dico il prodotto è fenomenale io sinceramente non ci intasco un centesimo li ho contattati per poter avere un codice sconto da darvi e me l'hanno dato sono stati anche molto gentili perché oltre al codice sconto mi hanno mandato anche una confezione di questa confezione che vedete me l'hanno mandata loro più un po' di questi confezioni singole ok e qualche adesivo vabbè comunque gentilissimi disponibilissimi e per non scrivere tutto il nome del canale marco faccio da me marco faccia da merda ok abbiamo fatto un codice che è marco fdm ve lo scrivo per esteso marco fdm 10 voi entrate avete il 10 per cento di sconto magari potete anche mettervi d'accordo con degli amici invece di ordinare una busta ne ordinate di più e vi esce sempre qualcosa perché comunque 10 per cento di sconto non è male su 11 euro e 90 facciamo 12 via su 12 euro il 10 per cento sono un euro e venti sconto non è nulla però un caffè non è male io che dire non sono abituato a fare questi video però come ripeto non mi viene in tasca niente mi hanno regalato loro questi e il codice sconto è per chiunque ne voglia usufruire io vi consiglio almeno di provarlo vi consiglio almeno di provarlo e vedere secondo voi cosa può essere meglio specialmente questo periodo estivo io lo consiglio vivamente perché la profumazione che rilascia questa bustina qui è una cosa veramente fantastica niente che dire io spero che questo video vi piaccia non sono abituato a fare video di questo genere come ho detto infatti per fortuna che c'è stato lui che mi ha aiutato bella merda vabbè comunque dicevo il codice ce l'avete se lo provate commentatemi pure il video per sapere come vi siete trovati se vi siete trovati bene o meno tanto ve l'ho detto va bene in qualsiasi tipo di cassetta in qualsiasi tipo di serbatoio andate tranquilli fatemi sapere se vi trovate bene se avete domande chiedete pure e comunque sia anche loro vi lascio anche in descrizione tutta sia il codice l'indirizzo del sito il sito se non ricordo male c'è l'ho segnato qui si www.ewttorino s di savona punto it e vts punto it voi entrate dentro c'è il prodotto ve lo ordinate ve lo fate arrivare a casa e boh non lo so che dire le vostre stronzate non saranno mai state così profumate ciao e al prossimo video